ancora qua siamo ancora qua a venerdì ventuno dicembre in Barba e Maia buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Manamana Sport da parte di Massimiliano Leggeri buon pomeriggio al resto della razza umana tranne al nostro Luca Perna in cabina di regia buon pomeriggio lui è l'esempio vivente che l'uomo discende dal primate buon pomeriggio anche la nostra splendide Emanuela Valente che già sta lavorando per voi e ieri devo dire che ha impreziosito con questo cammeo questa bella intervista che oggi poi trova spazio su molti giornali di Giovanni Trabattoni che ha detto cose molto interessanti come è stata interessante la domanda non me ne vogliano gli altri presenti però posta dal nostro Guglielmo Timpano a mister Eman argomento che tratteremo uno Eman silente sul mondo arbitrale buon pomeriggio Guglielmo buon pomeriggio Max a tutte e a tutti i sopravvissuti ma non cantiamo vittoria che è ancora lunga appunto sì anche perché se non sbaglio secondo il diffuso orario Maya alle ore diciotto quindi in tempo in tempo per mandare la sigla poi voi estinguerete tutti ma perché lei è allora è un'ascensione verso l'alto non si è ancora reso conto di chi sta parlando infatti io ieri ho fatto una richiesta esplicita dopo i dieci nelle pagelle di questo anno e mezzo due che la conosco gradirei avere un piccolo posticino nella sua speciale arca di noi caro leggeri quanto è bello che è cocasano buon pomeriggio ma allora lo slogan di oggi è mai dire maia eh si può dire mai ecco tra l'altro vi domanderemo molto simpaticamente come vorreste morire nel senso che no ma che modo è scusate ma che grattazio subito la certezza in maia ce l'hanno dato anche se poi approfondendo l'argomento cercheremo così di scongiurare anche questo evento che non hanno mai preconizzato in mani sul tavolo lo hanno mai preconizzato ecco grazie ieri sera c'erano diverse trasmissioni che a mezzanotte hanno chiuso stappando le bottiglie come se cioè a mezzanotte un minuto non era successo niente e quindi il mondo era salvo peccato che la profezia parla di un orario successivo c'era Vespa con i plastici hanno solamente profetizzato l'avvento di un mondo nuovo e forse facevano riferimento a quel mondo tecnologico devo dire testimonianza dello stesso credo che sia stato lo sbarco ecco su twitter del nostro santo pontefice quindi secondo me secondo me in parte avranno ragione anche leggeri su facebook con tre profili credo sia uno sbarco io che sono molto dietrologo sto chiedendo questo da questa mattina avete visto capi di stato parlare in diretta televisiva? E vai Max! No, eh no, non so per quale motivo però ho capito però tanta maleducazione avete visto Max capi di stato parlare in diretta televisiva quelli sono tutti infrattati nei bungalow là no come si chiamano? dei bungalow allora 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 abbiamo già discusso intanto che come sanno buonasera buonasera Max ecco a lei forse no vabbè detto questo avvenente bello alto grosso chiaramente un fregnone mi dicono però va bene lo stesso chiaramente un discendente dei maia e lui? si è stato presentato alla soglia della fine del mondo giocatore di palla io mi aspetto Osvaldo dal primo minuto come indicazioni ci sono arrivate speriamo di no l'allenamento e mi aspetto De Rossi a centrocampo come regista credo che la Roma avrà bisogno di un equilibrio che De Rossi può dare più di taxilis pensavo alla Mazzolini dei gusti dicevamo tale qualcuno ragazzi la Mazzolini credo che non riscuota grandissimo successo però la rispettiamo la rispettiamo essendo donna non fanno riuscire a trattenere però sarebbe bello lanciamo il sondaggio si tratta di donne e si tratta di gusti personali tra la Ugelli e la Turra chi preferite ci hanno scritto meglio Rosi Pinti Elena Turra il direttore dai direttore si tratta di gusti personali qui non posso perché sono amico di entrambe eh vabbè mica si manca di rispetto vabbè si parla di avvenenza fisica direttore ma invece io ad esempio tra Belai Rodriguez e Federica Flitto scelgo Federica Flitto bravo ecco questa è la risposta bravo la risposta è quella è una scelta è una scelta di cuore ma io posso ma stai mettendo in dubbio l'avvenenza della dottoressa no 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 o intermedia benissimo invece le donne nel calcio io prendo tutta in generale donne nel calcio la mezzaruma tutta la vita ah si anche se anzi no 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 tutta la vita no pure tutta intera amica per forza media bravo anche Barbara Berlusconi non è male si che tra l'altro ha lasciato Pato e Pato infatti se ne sta andando in Brasile con il Milan e alla vi sfugge la presidentessa del Lanciano che non è niente male è vero è vero io l'ho vista di persona andiamo a vedere la penultima partita di Peppe Giannini durante quella meravigliosa calo alcada vincente che lo vide protagonista in quel di Gallipoli sto a cercare su ci fu anche un mezzo conflitto in tribuna stampa tra lei e la presidentessa il tribunale no no sì sì devo dire molto molto avvenente la presidentessa non ricordo adesso il nome la risposta per correre della sera ma io Zanzi oggi è rimasto proprio lui Italo ha paura delle riduzioni di colore intanto si rifugia in calcio d'angolo eh signor Piacentini Zanzi è un pochino attenti che Zanzi potrebbe anche cadere nella trappola Zanzi è stata una simpatica novità cioè pure Zanzi mai visto un amministratore delegato ma anche Zanzi circolano voci su Zanzi no ragazzi basta Max ma che modi sono è la fine del mondo che vuoi di tutto però vedete ragazzi sempre questo inutile pregiudizio veramente macista ma qualora fosse quale sarebbe il problema salutiamo Zanzi sarebbe un problema suo non ho capito scusate Maccheroni ha detto che sarebbe un problema suo non suo cioè suo di Zanzi non suo di Maccheroni vedete questo pregiudizio che ha lei già nell'aria e soprattutto nelle vostre teste ogni volta che si tocca ma io lei la capisco la capisco che lei può avere però ognuno può essere bravo Fabio hai una plomba veramente anglosassone devo dire ma c'è una fissa Max su sta cosa dai tempi di Jukovic lì manca Dajetorto vi scandalizzate ancora se un uomo ha altre predilezioni sessuali ma qual è il problema? siamo entrati nella nuova era Roma, Milan domani Caspiterina Zanzi con Pemes no ma preferisce Ville o Padro Cloduo i signori nel mondo dello sport ci ricordano la massaggiatrice del Chelsea chi non si farebbe mai massaggiare infatti hanno vinto la Champions sembra che sia un medico quella ah il medico sì sì pare che sia un medico ecco perché l'infermeria era sempre piena però hanno vinto la Champions in compensa quindi io comunque anche come amuleto la prenderei bella ragazza bella ragazza Eva si sta derodando un religioso silenzio da parte di Gianluca Piacentini credo che non possa toccare l'argomento perché è una persona seria no perché poi teme di trovare ovviamente le valigie sull'uscio di casa ecco anche ci saluti perché lui parla da casa capito ci saluti l'uscio Piacentini ma sua moglie è particolarmente gelosa no stavo pensando sono diviso risata isterica la battuta sorge spontanea per quale motivo dovrebbe essere risata isterica di Piacentini ormai sull'orlo della crisi di Nermitt no pensavo più pensavo più diciamo alla onorabilità della testata che rappresento vorrei mantenere il posto di lavoro il posto di lavoro a me a me Gianluca scusi l'estri Natale tutti più buoni ti faccio i complimenti per la domanda che hai fatto a Zeman stamane quanto ti voglio bene gliel'ho scritta io ovviamente veramente l'unica domanda vera sì come ti chiami Maccheroni Maccheroni puoi dire qualcosa di cattivo perché c'è troppo amore in questo momento no fa una domanda meravigliosa come ti chiami sì possiamo autocelebrarci come entità giornalistica non me ne vogliano le altre emittenti competitor tutte brave belle per carità però come come ecco diciamo come giornalismo con parole due con parole mie sì esatto come profilo giornalistico credo che Radio Manamanà intanto arriva la notizia Valentina Maio si chiama così la presidentessa della Virtus Lanciano ce lo scrive il nostro amico non si firma che ci sta ascoltando in questo momento da Lanciano Valentina Maio Piacentini molto bella beh dobbiamo dire che lo sbaglio non è che ha rubato propriamente l'occhio nelle ultime nelle ultime uscite ha fatto benino direbbe Marotta contro contro la Fiorentina e mesi proprio dopo di che è finito tutto quindi è inutile che me compro una casa crossa perché c'ho sei mesi inutile che me li dai Messi e Cristiano Ronaldo per sei mesi per sei mesi potrebbe essere arrivano a fine anno vinto lo scudetto e moro felice il desiderio di Casano sarebbe quello di partecipare a delle sedute collettive presso i centri sobrino ma è bello che poi lei sappia qual è il mio desiderio e lo esprima lei una cosa positiva stiamo a parlare con uno che vuole parlare con il Papa io volevo parlare con il Papa sì è arrivabile per me io ho vista però caro Casano perché nulla sfugge al buon leggeri fare il buon laccione con una sua collega se vuole faccio anche il nome e cognome in diretta caro Casano perché almeno sfugge nulla vero Emanuela l'hai notato? l'occhio un po' languido parliamo della biondina che era presente lì alla cena guarda come è diventato rosso non c'è nulla da negare è diventato rosso non c'è nulla da negare è una risposta alle sue provocazioni qualche settimana fa vai vai Chicco distrutto però devo dire una cosa ho colto nel segno ho colto nel segno Emanuela l'occhio clinico delle donne prego no dicevo vuole sapere il mio desiderio ci ho pensato che fa però cambia argomento no le ho risposto ho detto è una risposta alle sue provocazioni lei mi ha provocato e Casano te se magna e dai dai che co dai vai apriamo apriamo le mie telefoniche no il mio desiderio è giocare dieci minuti con Francesco Totti a pallone questo mi piace di un populismo unico è vero è un biego e retorico populista è vero cioè l'ultimo desiderio della sua vita sarebbe quello di giocare con Francesco Totti sì dieci minuti con la maglia della Roma all'Olimpico sì perché no ma vabbè che invece allora io scusi a lei non avrebbe non le avrebbe piaciuto la maglia no però è vero qual è il desiderio no qualcosa che non si è avuti nella vita no io ho avuto io ho avuto e ho fortunatamente una bellissima moglie un bellissimo figlio una grande famiglia quindi qualcosa che non hai ottenuto parlare col papà io voglio parlare col papà ma te mi hai rotto le palle con sta cosa no ma perché vorrei un confronto pari grado pari grado cosa? allora scusi una domanda allora mi dica la domanda che farebbe al papa ma non lo voglio sapere Cicco la vuoi sapere? no no sì io no e quale squadra tifia? quanta tristezza e soprattutto quale trasmissione radiofonica ascolti il pomeriggio? sarà la linea aperta 06 96 04 39 22 oggi ti crediamo un attimo anche perché gli argomenti li abbiamo tutti triti e ritriti e trattati quindi quale sarebbe l'ultimo vostro desiderio Luca Perna a passarlo lì con il suo amichetto come si chiama? no no Elton John sentiamo chi è in diretta a linea aperta è pronto? pronto sì buonasera ciao Danilo ciao Danilo buonasera ciao Danilo ti chiedo scusa la colpa è di Casano è colpa mia ma io vorrei passare con di Livio con di Livio ecco questo è un bel desiderio pensa no perché Luca Perna vorrebbe passarla con Scialpi no si farebbe pagare di Livio tra l'altro basta lo dire se basta sì con di Livio ma è un male però è un bel desiderio no? sì questo è andato ultimamente no vabbè a parte di scherzi a parte di Maglia secondo me devono cambiare spacciatore sì anche questo è vero sì anche perché quelle erbe quelle erbe che utilizzavano non erano solamente mediche e taumaturgiche ma è così in qualche modo confondevano anche un tantino le idee prego le idee? no io volevo parlare il tuo ultimo desiderio prima dell'estinzione allora vorrei portare l'aereo e schiantarmi sul formello Max no ma no grazie ma non è plausibile questa cosa ma è una metafora ma cosa? la coppa con le grandi orecchie sentiamo chi è in diretta pronto? povero De Rossi pronto? sì buonasera ciao Max buonasera a tutti e auguri grazie probabilmente la linea non so quando la riprenderò no ma non solo anche perché potrebbe cadere se poi dovessimo sprofondare nei futuri dieci secondi sì nei meanni della terra sì Max no da quel punto di vista è una delusione guarda ma come è una delusione? è una delusione lo sai perché? perché io oggi tranquillo sono partito di mattina sono arrivato lì a formello ho visto che è tutto un tatto nessuna attenzione 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 ecco comunque comunque una cosa scusa te posso chiedere una cosa ma te ti aspettavi che venisse rasa al fuolo formello i maia avevano preconizzato la fine della società civile ecco non dei naziali questa la faccio mia sì prego dico non tutta formello magari solo diciamo ecco la parte del formello che riguarda vai vai va beh comunque sì dicevo poi c'ho a tutti e buone feste per il mio ultimo desiderio è parlare con Benito Mussolini va beh Marco Ostia ognuno ha i propri desideri basta andare dall'altra parte anzi no no per carità anzi anzi mi piacerebbe restare in una stanza 5x5 con Zlatan Ibrahimovic legato ai polsi e due sprangone di ferro in mano ma lo puoi leggere ma lo leghi pure allora il mio desiderio è vedere il grande Max con la maglia della Lazio e allora è veramente la fine del mondo vince a 83 sì però qualcuno però finirebbe male sentiamo chi è in diretto ovvero il mio interlocutore pronto pronto ragazzi ciao sono Massimiliano ciao Massimiliano buonasera salutiamo anche il buon Vincenzio da micro sempre all'ascolto grande della trasmissione che spera appunto che a formello ci possa essere il presidente scherziamo prego buonasera ciao senti il mio desiderio diciamo uno solo su tutti che sparisca proprio per sempre la Lazio pure nella nuova ma davvero ragazzi ma non c'è bisogno di desiderarlo perché la cosa si materializzerà e sapete perché io non la desidero perché l'ho vissuta questa cosa ma è fatto io non li ho visti per 11 anni io saluto il mio amico Vincenzo stavano un anno in A e 10 in B non li vedevo mai lo sai che è vero voglio dire Ops parlava di corsi e ricorsi storici è una cosa che ricapiterà è ciclica ecco invece ma non per oltre a gioarli un bell'anno di serie C magari quello sì tutti a sorridere perché io vorrei passare le ultime ore della mia vita con un personaggio di uno spessore intellettivo sicuramente soprattutto il vostro tutti a pensare a questi argomenti prosaici alla che cosa sanno che si vorrebbe fare la biondina ma fallo un sondaggio il signore ma fallo un sondaggio no io sono felice fidanzato l'hai detto come si chiama la biondina ho capito ma lei è diventato rosso mi fai guarda mi fai ribrezzo se non avesse tutta questa R te lo direi ma te l'ho detto guai c'è possibilità di salvezza ma fate altro posso morire adesso ma tu poi vorresti fare una cosa scusate abbattetevi su di me lo dico grazie ma poi vorreste fare cosa con il Papa Giosef eh ho capito Francesco Dotti lei le passerebbe con Francesco Dotti ma direte sì Giosef sta bene così veramente eh le posso dire una cosa ma è un inguaribile romantico io ci penserei se fossi in tema ci ha fatto pensare che ecco cioè Abel Xavier ha giocato con Totti e Max Leggeri no pensa questa è una cosa bruttissima il mio ultimo desiderio è conoscere la Valente Fabri allora devi postare delle foto mi dicono sul nostro profilo Facebook che cosa fa un ape a Sisenizza già l'abbiamo detto l'ape maiale benissimo il mio ultimo desiderio è rigiocare Lazio Campobasso e fare l'arbitro rilascio in sette i formaggiari e li faccio perdere a tavoli ha vinto lui ha vinto lui la rega io abito a Formello passo a Romanista abbonato in sud a Bertanni te prego ma qui si esagerava dai il bue e l'asinello non c'erano è vero se li erano magnati i magli senti vediamo chi è in diretta pronto? mamma mia pronto ciao a tutti Gigi ciao Gigi buonasera ciao Gigi innanzitutto auguri a tutti quanti grazie solo a me solo a me taglie cremeria taglie Gigi ma cosa il sogno mio sarebbe un'eruzione prepotente del Vesuio no stiamo trascendendo dite che state scherzando altrimenti trascende la trasmissione mi raccomando dai anche perché ci sono anche tanti ragazzi no appunto prego ecco passando a qualcosa ah ci ha proprio attaccato allora il mio desiderio è vedere Chieco Vasani in bichini poi mi ammazzo Chris il mio ultimo desiderio sarebbe far resuscitare una certa persona per dare un'ultima ripulita a questa Italia di M ma so convinto che se resuscita si guarda intorno e si ributta nella bara per lo schifo che vede ciao auguri a tutti voi Marco da Barcellona ma secondo voi con questa strana effigia che arriva a chi fa riferimento Marco allora io sono convinto quale altra domanda lei farebbe a Arsio Ratzinger buona mezz'ora col Papa mezz'ora non è che gli chiedi solo parliamo di contemporanei altrimenti io passerei mezz'ora con Dante Alighieri vabbè ma non è che puoi fare come te pare ma è scelto il Papa la domanda cambia rispetto a voi che siete dei miserabili Dante aveva veramente una mente elevata c'era un spessore intellettivo ma poi che dici stai a paragonare a Dante appunto la divina con me no ma Dante Grichini il tifoso della Roma ma uno che si è invitato lo slogan dagliere o ma dagliere ha vinto ma voi pensavate Dante Alighieri hai detto Dante Alighieri ho sbagliato Dante Grichini grazie ma è un deficiente Matteo devi lasciar stare sentiamo chi è in diretta pronto pronto? sì buonasera buonasera ci vuole fare i complimenti grazie li accettiamo volentieri si te va eh complimenti per la trasmissione sì pronto mi meritiamo sì il nome Anacleto Anacleto sì certo Anacleto di nome Anacleto Gianni prego no no qui è Gianni Anacleto no si ricorderà lei Anacleto Gianni grande presidente della S Roma no? sì 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 certo se vuole sì ci dica prego una sola domanda per Max Anacleto volevo volevo alle sei finisce il mondo spiegiamo se eh sì sì apposta volevo dire appunto che mi piacerebbe tanto vedere la Roma in serie B che volevo dire? Anacleto Anacleto lei potrebbe fare il comico per questa battuta incredibile e desiderante ho capito troverà occupato perché dentro c'è Silvio allora proprio lui allora allora Giulio Cesare mamma mia prima che il mondo finisca il più grande di tutti i tempi mi faccia capire lei è un fantascientifico leggeri oggi prima che il mondo finisca tutti avranno la possibilità di passare mezz'ora del proprio tempo prima di estinguersi tutta la razza omara con un personaggio che è esistito in questo mondo chi scegliete stavo scherzando ragazzi Dante Alighieri solamente una mente legata poteva descrivere così dettagliatamente l'inferno poi non mi soffermo sul paradiso beh beh no però io e sul purgatorio forse io con Ulisse anche se non è mai esistito perché è un personaggio chiaramente che deriva da una invenzione però Ulisse se mai esistito il personaggio di Ulisse non lo so perché è un personaggio che quando studiavo mi ha sempre molto affascinato benissimo secondo lei Marotta invece con chi passerebbe l'ultima volta basta il mio ultimo desiderio benissimo ha raccolto l'assist il mio ultimo desiderio cosa che non ha mai fatto non parliamo di sesso spiccio ad esempio guardate quanto è brutto il nostro Francesco Genetiempo ecco che non si sa con chi passerebbe le ultime ore della sua vita sentiamo chi è in diretta dai pronto pronto? sì buonasera ciao sono Sandro aspetta un attimo che ti passo Max Sandro allora l'ultimo dei momenti che voleva stare con la Gioconda perché l'ha fatta vedere a tutti l'ha fatta no complimenti a Sandro complimenti posso dire una cosa io io morirò prima forse la centena che si potrebbe estinguere prima Casano io mi chiederò dentro una stanza con Michela Calcagno di Mediaset e poi posso pure morissimo un 81 a me non mi dice ne ha ne b infatti poi vi racconterò in privato cosa è accaduto grazie il mio desiderio è Diachite Diachite del Pescara che mi sei infortunato che è lì nel fantacalcio che non c'ha più difensori ma Nagerbue e l'asinella buona fine Tizan il mio ultimo desiderio è essere vicino ad Agostino 5 minuti prima dello sparo provare a fargli cambiare idea alle 71 che bello questo bravo Ale bellissima come idea buongiorno non torno il dito chi parla? pronto ma scusi prima sbagliamo pronto si chi è? chi parla? chi parla? ma scusi mi cerca lei scusi chi parla? caldo il dito ma chi è che parla scusi poi con chi ha un pezzo quello è il problema io mi chavo adesso e sono caldo a te stesso una cosa è certa che noi stiamo affrontando in modo diciamo così scientifico nell'accezione semantica con un sistema analizzando le varie problematiche che sono emerse che qualcuno mi ascolta aiutateci creare crea di fatto quasi una resa non sembrerebbe c'hai la voce balorda a me non mi freghi passo io stavo affettato con Bocai Marine l'esercito torniamo tutti a Formello tra coloro che sono sospesi ci va tante le linee negli ignavi no? vediamo noi con questa mia dirvi adesso i tifosi per esempio da qui da qui almeno si attendono anche qualche anche qualche altro attività perché non vi identificate queste c'hai la voce balorda a me non mi freghi passo una cosa è certa che noi stiamo affrontando in modo diciamo così scientifico nell'accezione semantica con un sistema analizzando le varie problematiche che sono emerse furta là su gente ciao ciao molto piccolo bene casa pregiudicata e defresa pregiudicata pio 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 quindi se ve ne andate se andiamo tutti caro ma nel cuore proprio in quella fascia aria poi come dire in diretta tutto tutto in diretta gli eviteremo signor Casano buonasera io ho bisogno appunto di un buon caffè quindi mi diamo una mano grazie adesso caro Leggeri dopo le vado a prendere un termos Luca Perna voto 9 stoico perché a causa di un'improvvisa influenza che ha accolto il povero Tomasetti che salutiamo sperando che non se ne vada con la Lazio nel cuore anche se lei in privato le ha augurato la morte a Tomasetti lei le ha augurata non solo in privato ma anche davanti a noi sarà costretto a rimanere qui dentro fino a domani lasciando così questo mondo con il suo compagno e amico di sempre caro Perna per Oli e Benger è il pallone per lei il mixer è contento? Perna non sa usare però va beh amico di sempre non è detto che uno lo deva sapere che sia contraccambiato esatto Max Leggeri voto 10 nonostante lei abbia caro Leggeri distrutto la mia relazione sentimentale in diretta gettandomi in un baratro senza fine le conferisco solenemente questo 10 perché l'idea di vederla colloquiare a tu per tu con sua santità nelle ultime ore della sua vita beh non apprezzo anche perché mi sembra giusto desiderare nell'ultima ora della nostra esistenza qualcosa che non si è potuto realizzare durante la vita cioè fare sesso è una cosa banale volgare prosaica anche le 6 che io che io faccio tutti i giorni come dice uno spot famoso per tutto il resto c'è Maya Card ecco Maya Card con il mio timpano voto 8 non immagini Ratzinger che gli fa noi ci siamo domandati immaginati le domande che fa Max a Ratzinger al Papa e Ratzinger che gli fa Max ma tu perché essere così deficiente ma io col Papa parlerei di teologia ma di dell'aspetto comune della vita ecco no io gli chiederei perché è sparcato la pasta al fondo che gli chiedi non ho capito Guglielmo Timpano voto 8 la ringrazio sentitamente per il suo tentativo di aver cercato sicuramente Vano di aver lanciato ai miei confronti una ciambella di salvataggio peccato che sia stato tutto Vano anche perché la ciambella non gli entra a lei esatto appuntamento a domani sera con l'ultima radiocronaca del 2012 sperando che sia fuori era di una grande grazie si anticipiamo il contenitore che viene dopo i titoli di Aldo Agroppi mister buonasera come sta ciao parlavi di sesso o sbaglio basta mister anche perché lei è l'ultima ora della sua esistenza siamo vicini all'estinzione come la passerebbe mister ma io chiamerei Berlusconi andrei ad Arcore e fare un bel bunga bunga ma ci sta sua moglie lì mister Agroppi la mia moglie andrà a fare la stessa se ne approfitta Max parli ma Max parli proprio te che hai detto lo fai tutti i giorni no si ma no perché c'era la signora direttrice dall'altra parte del vetro e scherzavo no perché io posso confermare ah sì benissimo Aldo basta ma è un rullo compressore senti Aldo io posso confermare no ti faccio i complimenti anche perché Max col fisico che c'ha eh sì sì ormai è rimasto solamente quello ecco e tanta voglia è presente come le statue greche fatte dire domani no no Max ha un bel fisico è giovane quindi bene bene in fiocino non so cosa cosa ha preparato ma se stai in forma un colpetto gli si dà è davvero benvenuto ieri sera no basta ma è cosa grande artino mio quanto ti voglio bene no ma no no non è più come una volta ma come no voi dovete pensare che quando io ero giovane lei lo stesso ha visto quando avevi quelli quelle serate sì di grande aggressività di grande desiderio sì di grande desiderio ed eravamo molto giovani sì devi capire che noi in camera da letto sopra a letto avevamo una un quadro una madonna che teneva in braccio il bambino bene quando noi eravamo in forma perché eravamo veramente in forma come tutti i giorni ma io facevo delle prestazioni eccezionali beh a un certo punto la madonna faceva cadere il bambino e si metteva a battere le mani no ma cosa ma mister sei profatto così ecco ora la madonnina l'ho riposta non c'è più niente sulla parete va bene ho capito di cosa parlerete questa sera tra qualche minuto no stasera parleremo guarda via la minetti no vabbè però calma lo strepitoso sì prego l'avete vista in seconda pagina su stadio la minetti sì l'abbiamo vista non male non male il stadio non lo sento dal 65 ma giustificato il tradimento del fedigro eh sì Ronaldo ah cristiano cristiano ma lei è convinto mister che ci sia stata questa notte di sesso ma certamente sì eh certo la minetti non è mica una che si innamora di uno che lavora a tasto eh questo è vero difficile sì questa ha approfittato di Berlusconi per rendersi famosa nota e guadagnare dei quanti Aldo ma secondo te anche il Berlusca l'ha infiocinata? vabbè ma che termini sono il Berlusca è il dato di zembo ragazzi ma che ma che piaga proprio sta prendendo non è una piega ma è una piaga questo momento da trasmissione ma si ma affrontiamo questi argomenti dissagrandoli anche perché tra pochi minuti ci estingueremo caro Aldo eh io scherzo ma il nostro mister è veramente appartiene ad una razza che invia distinzione nel vero senso della prova Aldo ti ascoltiamo sempre con piacere tra qualche minuto durante tribuna stampa eh va bene grande forma ci ascoltiamo e buona minetta a tutti grazie 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 Aldo Acroppi allora un saluto ai nostri grazie grazie anche ad Emanuela Valente l'appuntamento è stasera ore 21 Teleroma 56 canale 15 se non l'avete risintonizzatelo sul vostro televisore del digitale terrestre oppure l'828 di Sky grazie a tutti grazie a quel gran cretino oggi però un po' arrabbiato eh succo la vita dai non le è morto nessuno lei morirà tra qualche minuto insieme a noi quindi di essere felice pensi che felicità estinguersi insieme a Max Leggeri no eh dai no grazie a Luca Perna in cabina di regia la nostra Emanuela Valente in redazione grazie da parte di Max Leggeri da parte di Guglielmo Timpano da parte di Checco Docasano da oggi ribattezzato osurdato innamorato a domani come sempre Dio esiste e non abbiate paura dei Maia che Dio vici strabenedica e soprattutto Dai Roma Dai Roma il grido desta brigata solo tu Roma ma oltra Roma e oltra ancora sei mi da il giorno a me parli da notte senti che non strillo un arbuglio e non mi piangere di mettere quattro gatti lì in amore come il cuore mio vagabondo di notte mi dice no tu non puoi perdere ma non te lasciamo saremo sempre uniti e poi e ce potevo fa se te completi la bellezza desta città grazie